Mi chiamo Rina e ho 9 anni. Sono fuggita dal Myanmar con mia mamma e i miei 5 fratellini. Ora viviamo in Bangladesh. Il villaggio dove vivevo è stato attaccato ed incendiato. Hanno catturato il mio papà ed io ho avuto tantissima paura di morire. Del mio paese mi mancano di più gli amici e la scuola. Rina è una degli oltre 600.000 rifugiati ruinga in Bangladesh. Il Myanmar Rina ha visto orrori, violenze e persecuzioni di ogni tipo. Ma grazie all'istruzione può superare il trauma e realizzare il suo sogno. Diventare medico. Gli operatori dell'UNHCR si impegnano ogni giorno per garantire l'istruzione ai bambini rifugiati. Costruiscono scuole, formiscono libri, formano insegnanti. Ma soprattutto aiutano i bambini rifugiati a costruire il loro futuro. Aiuta anche tu i bambini rifugiati ad andare a scuola. Dona questo numero inviando un SMS o chiamando da rete fissa. Bastano 2 euro per garantire un mese di scuola ad una bambina rifugiata come Rina. E allora mettiamocelo in testa. Solo l'istruzione può salvare la vita e il futuro di un bambino rifugiato. Non è proprio l'istruzione può salvare la vita e il futuro di un bambino rifugiato. E allora mettiamoci un po' di un bambino rifugiato. E allora mettiamoci un po' di un bambino rifugiato. Grazie a tutti